Da lunedì 9 luglio e fino a domenica 9 settembre la funicolare di Montesanto resterà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione e adeguamento tecnico dell'impianto. L'intervento straordinario consenterà di migliorare la sicurezza e la qualità del viaggio e prevede la sostituzione di carrelli e ruote delle vetture, oltre alla revisione di centraline idrauliche, circuito freni e porte. I lavori programmati in un periodo in cui si riduce la domanda di trasporto saranno realizzati senza troppi disagi per gli utenti. Ad integrazione delle altre due funicolari, centrale e chiaia, che funzioneranno regolarmente durante il periodo estivo, sarà infatti istituita la nuova linea C35 di ANM con una frequenza di 35 minuti tra le 7.30 e le 19. Da lunedì 9 luglio, con la chiusura delle scuole e la diminuzione del pubblico di viaggiatori, entrerà in vigore anche l'orario estivo della linea 1 della metro, che prevede ad agosto la sospensione del servizio navetta Dante Università della linea 6 e la chiusura temporanea delle seconde uscite di Salvatore Rosa, Monte Donzelli e Rione Alto. Dal 5 al 26 agosto la tratta che collega Dante e Piscino la sarà servita tutti i giorni dalle 6 alle 20.45 con corse ogni 15 minuti e dopo le 20.35 con una frequenza di 20 minuti. I nuovi orari estivi si possono consultare presso gli Infopoint presenti nelle stazioni di metro e funicolari sul sito di Metronapoli oppure chiamando il numero verde 800 568 866 attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Grazie a tutti.